buongiorno signori panetti da 255 grammi lo so sembrano giganteschi e lo sono ma è tutto merito della fermentazione andiamo a stendere velocemente mettiamo il nostro panetto steso sul piano di lavoro un giro di san marzano dopo condito solo col sale basilico e il nostro fior di latte di agerla quando abbiamo condito perfettamente la nostra pizza anche con un 33 centimetri della misura della pala e quindi anche del piatto e andiamo in forno per circa due minuti attorno ai 400 gradi o anche leggermente più in basso dopo questo tempo ecco la magia della regina margherita spettacolare friabile perfettamente cotta e pronta per essere assaporata